Rubate e poi ritrovate le preziose reliquie di San Francesco d'Assisi, poste nella chiesa di Santa Chiara alla Mezzia Terme. Si è trattato di una storia all'etofine che ha visto la polizia protagonista di un'azione investigativa efficiente e veloce. A rubare le reliquie era stato un cinquantenne che si era introdotto nella chiesa di Santa Chiara, aprendo prima la cassetta delle donazioni e poi impossessandosi delle ceneri del santo. I fedeli hanno fornito informazioni agli agenti intervenuti e anche grazie ai sistemi di videosorveglianza in poco tempo sono riusciti a trovare il ladro che girando in bici aveva ancora con sé le reliquie e alcuni arnesi da scasso. L'uomo è stato arrestato e riconsegnate le reliquie dagli agenti ai fratti custodi del tesoro religioso.